Durante una diretta su Instagram, Sonia Bruganelli avrebbe accennato alla possibilità di ritirarsi da Ballando con le stelle. Tuttavia, questa possibilità è stata smentita e la concorrente affronterà la pista per lo spareggio, rimanendo così in gara insieme a Carlo Aloia. La decisione sul loro destino sarà presa dal pubblico e trasmessa da Millie Carlucci. Sonia Bruganelli ha dichiarato, noi non ci ritiriamo, abbiamo uno spareggio da fare, quindi è una situazione che riusciamo a gestire. Faremo un ballo già preparato, magari togliendo le prese per garantire la sicurezza. La decisione di rimanere in gara è stata presa anche come forma di rispetto nei confronti del pubblico. Sonia affronterà lo spareggio con Anna Lu, una concorrente bravissima, e Francesco Paolantoni, che ha anche egli dei problemi come coppia. Sonia ha raccontato di aver provato dolore durante la prova in pista, ma ha deciso di continuare nonostante tutto. La concorrente ha anche parlato dell'affetto che ha ricevuto dal pubblico, che la sostiene e la incoraggia a restare in gara. Sonia ha dichiarato di essere grata per il supporto ricevuto e di apprezzare i messaggi positivi che le arrivano dai fan. Inoltre ha raccontato di aver ricevuto complimenti per le sue performance di ballo, che la motivano a continuare a dare